No, no, sono già davanti, sono davanti i tuoi cordini, adesso aspetto lo sbuffo giusto e vediamo se riesco a decollare e dai che andiamo in volo, dai che andiamo in volo, si ok nekno Grazie a tutti. Siamo a 1200 metri, sto cercando di riguadagnare ancora i 1300 e qualcosa di prima. Con questa termica davanti a Serra del Monte. Adesso ho perso la termica ma la andiamo a cercare. Dove essere qui da qualche parte. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero. Sempre a 1200 metri. Adesso vedremo una panoramica tra i 60. Il momento è terzo come l'altro giorno. Dal Tortonerese è Alessandrino. Di davanti c'è Voghera e il Monte Rosa dietro. Il nevato. E da in fondo c'è il Piacentino. Siamo bassi perché siamo a 1120 metri di quota. Siamo bassi. Siamo bassi. Siamo bassi. Siamo bassi. Chiudi. A maggior Natura. Oggi qua vedremo. Siamo bassi perché siamo quasi a 1000 metri. Se no poi non riesco più a trovare termiche. non è spumante però ci vuole buongiorno buongiorno